guarda che è di qua no c'è il contrario zio si di lì si non sei convinto io non gli ho dato abbastanza non ero non ero giusto gli ho dato ma non mi sono tirato avanti ma non ero giusto e allora che cavolo Didi mi raccontate un sacco di balle guarda che diventa buio stai attento te c'è quasi più acqua nella tana della volpe che qua cioè impressionante che là non ce n'è mai stata cioè te dimmi come hai conciato no 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 è pulita sotto e non mi vuole prendere è pulita è pulita ma ci ho fatta tante volte ma non mi ricordo comunque da quando c'è caduto quello lì che era un Pimaroni è solo quello perché quando non c'era quello lì eh cazzarola seconda prima secondo me devi il momento che hai sul davanti devi tirarti perché io sono rimasto lì ma non si ce n'è e qui è dietro ci sono in giro delle foto con test dryato linea di ghiaccio quello l'abbiamo fatto col ghiaccio con la catena con la corda eravamo io e te e gliele butti di apposta no qui sì sì quelli ti rompono i maroni adesso poi anche quello lì piccolino non lo porta via figaro ma che di acqua ne ha fatta e non faccio mai zone spiegatemi un po' ma che cazzo Non so, ma te l'applauso, attrevo per i coglioni, questa qui, con il mio ferro, su dieci volte, sette volte, la faccio a zero, con il mio ferro, se me la conosci a memoria. Ma meglio di Radio Marietta, vado al massimo, a zero, come fa il sistema, che si fa andare in moto, anche là, basta non fermare, la patente è presa e metti giù in te. Gli metto sul filmato dei legnanesi che ho fatto quando sono andato a vederli. Oh, grazie.